Quest'anno la Sagra si svolge nella parte vecchia del paese, che sono la via Sant'Antonio, via La Torre e via Antonietti, che sono la parte un po' più vecchia del paese e quindi abbiamo deciso di sfruttare, di far conoscere alla gente che viene a Baceno quella parte, perché secondo me è molto bella. Dopo invece la parte del mangiare, degli aperitivi e tutto il resto, invece giù al campo ci sono due capannoni, c'è la pasta, c'è il riso tipico con le mele, ci saranno le frittelle di mele che è stato un grande successo sempre, vanno sempre di moda ormai e altro lo scoprirete nei prossimi giorni. Sul sito, su Sagra mele miele, ci sono tutti gli appuntamenti, potete vederli da lì. Quest'anno abbiamo fatto anche delle visite guidate a Cugine, che è un borgo che abbiamo ripulito e sistemato per l'occasione e ci sono anche delle visite guidate per la chiesa di San Gaudenzio, che è stata sistemata e messa a lucido proprio per questa manifestazione. Siamo strafelici di questa edizione, è la 32esima, quindi non è poco, vuol dire che c'è stato un cambio generazionale, ci sono forze che hanno iniziato la storia di questa sagra che ora la guardano dalle retrovie, e giustamente si sono inseriti nuovi giovani che hanno raccolto un testimone bello impegnativo. Ma mi sento di ringraziare tutti quanti perché l'edizione è stata allestita e preparata con ogni dovizia di particolari. Io so che i volontari stanno lavorando da settimane e, dicevi bene, nel senso che questo è il primo giorno di Sagra, c'è già una grossa affluenza di persone, ce ne aspettano altri due, la meteo promette un gran sole e quindi troverete interessanti cose, novità nella Sagra, spazi espositivi, manifestazioni e convegni nello spazio che è dell'ex Isotta, dove verranno trattate tematiche molto differenti, ma tutte legate da un filo conduttore, ovvero il rinfrancare le radici e il coltivare le tradizioni di questo territorio. Per cui quello è il filo conduttore che sono felice di poter raccogliere dall'organizzazione che ha avuto una gran pensata nel dedicare la Sagra a questa tematica.